Vi racconto una storia. Mi sarebbe piaciuto tantissimo andare a Premier Pal della Roma, uno spettacolo, un evento incredibile, ma in realtà inizialmente non sembrava esserci posto per me, non potevo andare, stavo cercando praticamente tutti i modi possibili ed immaginabili per andare e creare contenuti sul canale. Quando in realtà poi avevo quasi perso le speranze, ho fatto un ultimo tentativo e è andato a buon fine. Quindi con grandissima gioia sono molto molto contento di dirvi che sarò a Roma, ma non solo sarò, ci sarete anche voi. Infatti siamo pronti per partire e vi faccio vivere il Premier Pal di Roma dal vivo su questo canale. Quindi intro e poi si va. Siamo arrivati. Treno in orario, taxi in orario, riusciamo anche ad arrivare in tempo dopo accredito ritirato per una sorpresa. Non ce l'aspettavamo, però si preannuncia veramente una figata. seguitemi e vi dico tutto. Eccoci, allora i medi avevano la possibilità, richiedendolo, di giocare una partita, qualche game contro dei giocatori professionisti. Quindi ovviamente io ed Emiliano lo abbiamo fatto e dobbiamo giocare contro Carlos Perez e Emiliano Iriat, quindi andiamo e vediamo cosa succede. Cercheremo di vincere? Sì. Vinceremo? No. Andiamo. Esperienza super. 8 minuti. Ci hanno concesso 8 minuti, non di più per giocare con dei pro, ma è una bella esperienza, molto divertente. Ora ci godiamo le partite del pomeriggio perché abbiamo fatto un po' di public relation iniziale e ora andiamo a vederci Coelho e Belasteghine. Abbiamo visto che si stavano scaldando fino a poco fa. Ora li andiamo a vedere giocare, competere. Lima e Stupa li abbiamo visti stamattina, ne abbiamo parlato appunto anche con Pablo Lima e ci godiamo la parte del pomeriggio perché ci siamo visti anche il riscaldamento di Lebron Galan. Adesso vi faccio vedere una roba perché quando si allenano i giocatori sugli smash gli allenatori vanno completamente fuori. Ecco, loro le palline le fanno arrivare qua. Alle mie spalle, lo vedete, il campo dove si giocano tutte le partite, praticamente quasi tutte le partite di oggi di Premier Padel, uno stadio veramente super, il tempo probabilmente sarà clemente, quindi veramente una giornata di Padel notevolissima in un impianto foritalico che è davvero bellissimo come pochi altri probabilmente. Quindi il primo giorno parte molto bene. Siamo qui per la seconda giornata di Premier Padel. Ieri abbiamo intervistato nel finale, non ve l'ho detto, lo dico ora, la leggenda Fernando Belasteghini. Una cosa pazzesca, lui è una persona super. Vi lascio qui un piccolissimo estratto e poi ovviamente l'intervista completa la potete ascoltare chiaramente su Padel Podcast. Vi lascio il link in descrizione. In Roma e in tutto Italia, grazie a che la gente mi conosce per il Padel, per Francesco Totti, per Gianluca Bacchi, la gente in Italia mi conosce e mi piace molto. E in Roma me lo demuestran ogni volta che vengo e sto molto felice. Io sempre ho detto che quando sto in Italia mi fa la sensazione di che sto in Argentina. ci stiamo girando da fronte began a fare una passata per live canale. E ci stiamo figurando che torreangerà i lo nascoltelle. la pioggia non ha risparmiato questo premier padel di roma infatti hanno dovuto sospendere la partita di martin di nenno ma quando girando per gli stand ci sono tante tante cose interessanti da guardare la migliore che è uscita la fornita ed ve la faccio vedere qui perché è veramente una cosa pazzesca ora la pioggia col sacchetto della spazzatura di firmato head è andata via ci siamo riparati non ci siamo bagnati si ritorna in campo per l'ultimo game e vediamo cosa succede se sarà l'ultimo game ovviamente finita anche lunga perché dopo la pausa per pioggia di martin di nenno la partita di martin di nenno e pacchetto navarro siamo arrivati in fondo lima stupasuc perdono con bella steghin coelho praticamente una guerra dei cent'anni partita bellissima finisce così anche la terza giornata del premier padel o perlomeno del nostro vlog domani semifinali poi la finale insomma c'è tanto da dire si chiude qui la prima parte del vlog quindi se vi è piaciuto fate un bel subscribe invadete di like perché tanti like meglio sarà per per il canale in generale e ovviamente arriverà molto presto la seconda parte quindi se vi è piaciuto like subscribe tutte quelle belle cose lì grazie ci vediamo nella seconda puntata